Buongiorno, vi aggiorno sulla vendemmia in corso. Abbiamo raccolto quasi tutte le uve per i vini bianchi, i chardonnay, i pinot grigi, il sauvignon e abbiamo trovato la qualità eccellente e abbastanza abbondante, è stato sanitario quasi perfetto, mentre stiamo iniziando a fare i bianchi da uve rosse, il famoso bianco di Merlot, sta andando bene, abbiamo delle gradazioni, delle acidità molto ben bilanciate e stiamo terminando a giorni questa produzione. Da oggi partiamo con i cru, soprattutto le sopraceneri che sono di gradazione un po' più alta che le sottoceneri. Faremo in giornata il nostro grande vigneto ai Saleggi, a Osone, che si prospetta una bella raccolta abbondante e molto sana. In seguito vi aggiorneremo di nuovo nella prossima settimana.